Musica Hello guys, Rangan here, benvenuti in questo nuovo video qui sul cazzo di Exit Brothers, si siamo in Exit E voi tutto quello che aspettate Mio dio, ho il volume al massimo Non alto, proprio al massimo Ok, allora tutto quello che aspettate Dicevo, di questa Exit E' solo una cosa E prendere E uccidere uno scheletro Ciao scheletro, bella E andare in caverna ovviamente Che cozzo è qui Ma porca puttana, vicino casa sta roba Ma io non lo so Ma io non lo so, abbiamo pochissime torce E quindi la cosa no Però io voglio andare in caverna, non voglio andare a esplorare No, dobbiamo andare in caverna noi Abbiamo bisogno di una caverna Allora abbiamo un problema Io, perché ogni volta che metto il waypoint Aia, mi si resettano Andiamo a mettere un attimo il waypoint qui a casa Che è una cosa utile, utile e bellissima Allora, waypoint qui a casa Significa che si fa Non mi ricordo più Come cazzo si metteva il waypoint N No, M No, K L J Signore B Ma adesso, perché non mi ricordo mai come In vivo No, così Ok, qui Casa Ok Group 1 Ok, ok Ah, vedete che me li ha ridati Perché no, allora Bah, vabbè E intanto impazzisce Allora Uh, che roba è? Ah no, solo gravel Peccato Andiamo alla ricerca di una mina Una miniera Una mina vagante Una miniera minerosa Non so se avete presente Quella è un po' con la roba dentro No, in cui Spacchi bottiglia Ammazzi famiglia Scavi benissimo Fai il fortissimo Presente con la roba là E andiamo a vedere Se riusciamo a trovare un po' di roba interessante Con il nostro picconazzo Fichissimo Che ci aiuterà ovviamente Nella ricerca di tutto ciò Non so perché Non so Cos'è quello? Eh, rare Tombing Spider Blast of Wile Wile 1 Proviamo ad ucciderlo Proviamo ad ucciderlo Ciao bello Oh Che cazzo sei? 16 8 16 32 28 Oh What is this? Meteorit axe A cosa mi A cosa Cosa fa? No Che cazzo fa Brothers Meteorit axe Efficienza 2 Tasto destro Non fa nulla Tasto sinistro Il solito Però è bella veloce Quindi ce la teniamo Siamo contenti Ci piace Ci piace Allora Andiamo a scavare Un po' di questa roba qui Che vedo sulle pareti Sulle fottute pareti Che è una cosa utile Allora Mi serve una pala Abbiamo una pala Sì che abbiamo la pala Abbiamo la pala del destino Per forza abbiamo una pala Tu 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 Siamo tipo Sembra la vajira Vajira in ftb Brothers Stessa cosa Stesso effetto Item diverso Stesso effetto Non cambia No questo qua Grazie Ok Andiamo qui Su Su Ok Andiamo a prenderci Un po' di sto carbone Qui Ecco Cade ovviamente La sabbia Ok E io vorrei Vorrei proprio Entrare in miniera Quindi non so Se ci conviene Iniziare a scavare Tipo da qua Così E poi scendere Forse sì Forse è quello Che ci conviene fare Ci conviene Scendere qua E andare Poi proprio in miniera Quindi scendiamo In semplice Facciamo una minata Raga Da quant'è che non mi faccio Una minata Nel vero senso Della parola Penso che Da quando in FTB Ho fatto la Tartola Anzi il query Uh ferro Il ferro ci serve Il ferro ci serve Tantissimo Quindi prendiamo Tutto sto ferro Ma quanto ferro Ma Stavo morendo Stavo morendo Mettiamo delle torce Perché poi vi dite Rendi Ma non si vede un cazzo La finisci di fare Video in cui non si vede un cazzo No Non la finirò mai È bellissimo Vedervi sclerare Perché non vedete Brothers Carbone A proposito di carbone Mi è venuto in mente Che abbiamo un po' di legno Con il quale possiamo fare Degli stick Con il quale possiamo fare Delle torce Grazie Ok Così almeno Vedete Dammi qua Allora Io ho messo Prima ho messo Luck Che dovrebbe essere Fortuna In teoria Però Non vedo Che ci da più carbone Di quello che dovrebbe darci Quindi Mi spiegate Come funziona Cioè Per avere La fortuna Proprio effetto fortuna Come Quello Dell'enchant Per intenderci Devo metterlo al massimo Devo fare qualcos'altro Devo unirlo A qualche altro item No perché Davvero non lo so Quindi Sarebbe una cosa figa Soprattutto se non sprecassimo Il nostro piccone Fico Che si deve ricaricare Si autoripara Però comunque si deve ricaricare Quindi mettiamo qua E scendiamo ancora più giù 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 Perché essendo più veloce Ovviamente Si Si I don't know Si consuma prima Brothers Quindi ovviamente C'è poco da fa C'è poco da fa C'è poco 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 Da fa Usiamo un po' quello di pietra No 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 Il piccone di pietra Non l'accetta di pietra Che cazzo vi serve L'accetta Comunque l'accetta Quella lì Meteoritax Chissà che cazzo Serve Ah brothers Che altezza siamo Come si vedeva Col vanilla Si vedeva Non mi ricordo più Si vedeva con Tu Saltiamo Si vedeva con P No Aspettate Si vedeva con Ah eccolo là Con Y Siamo a 50 Siamo altissimi Dobbiamo scendere ancora un bel po' Allora ci risentiamo No non stavo scherzando Sto dicendo Ci risentiamo appena scendo Eeeh No E invece no E invece Basta Qui Mettiamo qui Mettiamo una torcia Buona Saltiamo Scendiamo Di un paio di cubi Scendiamo Diciamo Di un paio di cubi Aia E mettiamo Un paio di cubi No Mettiamo un paio di cubi So in mezzo Che riusciamo a salire Dopo Sperando Di ritrovare Questa uscita Uiii Redstone Redstone Che cazzo Che cazzo è quello lì Oh signore Che item è No 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 Questa roba non l'ho mai vista Questa roba non l'ho mai vista brothers Non l'ho mai vista E sono curioso Lo sapete che Gli item Mi piacciono sempre un sacco Mi piacciono sempre un fracchio Che cazzo Mi è uscito una testa di scheletro Una testa di scheletro Una Skeleton school Eh si Una testa di scheletro Bro Questa che roba è Questo si rompe E diventa cobblestone Oh È stranissimo È stranissimo Questo item Scrivetevi nei commenti Che roba è Mettiamo un po' di cose Nell'inventario Intanto Tipo Non so Questa roba qui Le frecce No le frecce Se mai potrei anche tenerle Questo 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 ferro Questa cobblestone Questa roba qui Mettiamo un attimo in ordine Un blocco di ferro Che cazzo Mi sono portato Fa un blocco di ferro presso Ok Andiamo giù Andiamo giù Allora Lapis lazuli ci serve Perché appunto Come ho detto prima Mettono look On the On the Pickaxe E roba del genere Quindi I lapis lazuli In questa mod Servono a qualcosa In questo pacchetto Servono a qualcosa Andiamo su Andiamo Uuuuh Cazzo U Cazzo Lì Vedo dei diamanti E ci vorrei andare a prenderli Davvero brothers Voi non sapete quanto Vabbè Scendiamo con l'acqua Mi sembra L'unico modo Intellijontor Intellijontor Di scendere Allora ricordiamoci Che dobbiamo andare Dove c'è l'acqua Questo mi sa che è copper Questo mi sa che è copper Fermi eh Adesso vediamo subito Questo è Tin Ah Tin Perché c'è Sta grafica stranissima Oh sir Oh sir Va bene Va bene lo stesso Noi non ci lamentiamo Che roba è quella Che roba è questa Che roba è questa Questa cosa qui Ci da glowstone Ah questo è ghiaccio Ok Ecco ti pareva che non Sporca Puppola Porca puppola Raga mi raccomando Fate le persone gentili E non utilizzate Le parolacce Come faccio io Non fatelo Che è brutto Rompiamo l'acqua Mettiamo La torcia Che ovviamente Adesso scioglierà Anche il mondo Prendiamoci quest'oro Che ci servirà Per fare Gli stampi Per gli altri Item Da fare Quindi l'oro Ci serve un sacco Ce ne serve solo uno Però comunque Ci serve Andiamo a prendere Questo iron Perfetto Il nostro piccone sta Oh cazzo Lava Ferro Dove erano i diamanti Eccoli là Andiamo a prendere i diamanti Adesso Andiamo a prendere i diamanti Adesso Prendiamo sto ferro Il ferro Il ferro ci serve un sacco Questa roba qui Con l'item strano Un altro po' di ferro Un po' di carbone Aspettate Questo è ferro Dove? 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 Ok Mettiamo così Uno Due E dovremmo riuscire a prendere Questo carbone 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 Rompiamo qui Salta Carbone 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 Sti rumori Non mi piacciono mai Mannaggia voi E ci serve Tantissima Cobble Tutto Ok Andiamo a prendere la cobblestone Perfetto E ci mettiamo Dobbiamo salire lì Dobbiamo salire qui Quindi facciamo da qua Una salita Ecco questa era con la gravel Te pareva Su Su Sempre più su 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 Se cado da qui Mi faccio male Accendiamo la luce E prendiamoci Sti diamanti Che sono miei Sono tutti Miei I diamanti Sai Sono tutti Miei Brothers Mamma mia Che bello Trovare i diamanti A questa altezza È qualcosa di Fichissimo Aia E ci prendiamo Anche questa rezza Andiamo a vedere Se di qua C'è qualcosa Altro di interessante Problema Non sono abituato A guardarmi in alto Perché Effettivamente Non serve Solitamente Lo sapete Benissimo anche voi Che non serve Guardarsi in alto Sono nelle caverne Però con questa mod Devo prenderci L'abitudine Perché con il fatto Che trovo la roba In alto Ovviamente Soprattutto in caverna Abbiamo la possibilità Di trovare un sacco Di materiali A un'altezza Fichissima Ok Questa è tutto chiuso Ci prendiamo Sto ferro Togliamo ste info Che le ho lasciate lì Così Vi sarete fatti Una palla Grossa Quanto non so che cosa Con quelle info E qua dobbiamo fare Un passaggio Un po' rapido E soprattutto Un po' pericoloso Però Vediamo di riuscirci Uuuu Oro 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 che ci serve Come il pane In questo In questo mod pack Una volta Per una volta Ci serve l'oro In un mod pack Brothers È una cosa Che mi fa piacere Si sta rompendo Sto piccone Cazzo 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 Abbiamo un problema Abbiamo un problema Adesso si rompe Adesso si rompe Ancora no Ancora no Scaviamo Il carbone Con Il piccone Di 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 questo Di stone Qua che cazzo c'è Vabbè Io penso che potremmo Anche tornare a casa Quindi per il momento Siamo a posto così Cosa abbiamo recuperato 11 pezzi di oro 5 di tin Fermi tutti Ok 5 di tin Poi Salta 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 Bravo 5 di tin 13 di ferro Siamo Abbastanza tranquilli 13 di ferro Un po' di redstone Un po' di carbone Ecco Diciamo che adesso Abbiamo anche questo posto Possiamo poi tornarci Con calma Andiamo su Allora Oh cazzo Altra tin Eh questa la devo più Oh si sta rigenerando Ottimo Perfetto Prendiamo Questo Vediamo se ci riusciamo Eh resisti 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 Perfetto Abbiamo preso altri No che cazzo Si era tin Penso fosse tin Penso fosse tin Ok Andiamo su Allora da dove siamo saliti Noi penso da qui Mi stanno chiamando a casa Ma brothers Ignorate il telefono Perché sicuramente Non è per me Ehm Siamo saliti da qua noi Effettivamente Quindi saliamo Con la cobblestone Vediamo di farcela E un attimo Che spengo questo telefono Ok Allora dicevamo Spento il telefono Torniamo a noi Dobbiamo andare qui Quindi facciamoci questa Ecco questa passarella Scendiamo con l'acqua Saliamo in quel modo Ah noi siamo venuti da qua Ok Mettiamo qui Un cubo E ci facciamo la scaletta Allora brothers In questa puntata Abbiamo fatto un po' di miniera Che ovviamente Ci serve A prescindere dall'esplorazione Volevo fare In realtà Ehm Avete presente questa Grande Aero Giant Sword Si può fare anche di diamanti E con questi sei diamanti Sapete che Mi è venuto un po' Questa cosa Vorrei farla Ehm Sarebbe molto molto figo Dovremmo ritrovarci Però il punto Qui Quindi aspettate un attimo Ci mettiamo Al sicuro Facciamo mappo Tasto destro Caverna Diamo un po' di invii Fatto Ok Andiamo Allora dicevo Quindi Mi piacerebbe fare La Diamond Giant Sword Anche se ci sono tante Bellissime armi In questo modo Quindi davvero Sono molto volte Sono molto indeciso Su cosa fare E cosa non fare Perché Perché ce ne sono così tante Brothers È bellissimo però Mi piace un sacco Mi piace avere un sacco Allora Dove cavolo Abbiamo casa nostra Di qua Qua c'è il buco Ho fatto il Creeper Anni orsono Ormai Questa è casa nostra Questa è casa nostra Io me ne vado A letto Ci vediamo In un prossimo video Lasciate un mi piace Un commentino Passate dalla pagina Facebook Perché se vi iscrivete Anche lì Mi fate felice E niente Enjoy E carine Siamo con voi Bye bye Ciao 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 Ciao